Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Drone Department Pescara Io sono Sebastian e oggi ci troviamo al centro di Pescara che ci sta un evento per gli skater qua accanto, qua sulla nave di Cascella Andiamo subito a vedere Ok ragazzi, ora a piedi ci dirigeremo, scusatemi, verso l'evento e faremo un po' di domande, un po' di gente per capire di che cosa si tratta e faremo anche volare il drone Ci vediamo là, ciao! Grazie a tutti Si esibiranno con delle music di scopatti che riguardano gli anni 70, 80 e 90 Do tempo un attimino a ragazzi di fare la prova con le colleghe e diamo il via alla nostra piccola presentazione Grazie a voi ed è un piacere essere qui a Roller Day Ok ragazzi siamo qua Ci siamo accorti che non fanno solo esibizioni con lo skate ma anche con i pattimi Ora vedremo pure una bella coreografia di queste ragazze con i pattimi artistici Buona visione Buona visione Siamo qui pronti a far decollare il drone Adesso qua stanno facendo 10 minuti di pausa ma intanto vi posso sempre vedere qualcosina A voi filmati! Grazie a tutti! 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 Ok ragazzi direi che per oggi può bastare avete visto già parecchie cose e ora tra poco ci salutiamo Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!